Benvenuti ragazzi, io sono Daniele, oggi siamo su Arsenal, come ben vedete siamo nell'update di un biglione di visite e bene si, è cambiato praticamente tutto, ora ci sono queste cose qui, io ho sbloccato il Bigfoot e pian piano bisogna sbloccare, forse prenderò Fire Golem, non ne ho la minima idea poi ci sono i Battle Pass che non so cosa sono, quindi se voi sapete per favore scrivetemelo e poi abbiamo i contratti qua che dobbiamo vincere, fare qua eccetera eccetera poi abbiamo Locker e a quanto pare abbiamo molte più cose ora abbiamo le Chatter Case, Flare Case, Mini Case e Skin Case ovviamente le Skin Case sono nuove, perché? Perché abbiamo le skin per le armi ragazzi e si, facciamo gli armi oh, stiamo con Gabby, non so se l'ho già detto, vabbè, il nostro caro amico Gabby ma, c'è qualcuno di invisibile o sono io che sono c'è c'è? vabbè, allora ragazzi no, io voglio quando, io vado a 60 FPS e il gioco mi va un po' più a scappio io ho vedevo il gioco, io ho vedevo il gioco, io ho vedevo il gioco no, mi ha ucciso lei, quella maledetta babbana ho capito oh no, ma perché io vado a scatti? perché va a scatti sto gioco? ho capito che c'è il nuovo update, ma perché vai a scatti? muori, cos'è? 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 ma, 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 ma perché? ma cosa? cioè, dove è il motivo della vita? cioè, godo, questa è la mia vendetta blazer tu intanto tu muori a... cos'è? raga, questa diventerà una delle mie nuove armi preferite? scopriamolo, raga, questa è troppo bella come arma oh, guarda oh, perfetto ah, se sentite così, tipo che la doppia della mia voce perché siccome Gabriele non ha fortunato non possiamo stare a altri programmi quindi siamo normale whatsapp e quindi potete sentire la sua bruttissima voce oh no, comunque ci sono lui ma scusa, mi capo ah, se sono dell'altro team è perché non ce la faccio, no, mi dispiace non era proprio mia intenzione allora, ragazzi, come vedete quel Pippo e Gabriele quindi evitiamo dicendo perché quel poveraccio non c'è qualcosa non c'è anche per chi cioè, anche per noi per... ma per... è vero ma poverino mi dispiace Gabriele, se mi vedi... se mi vedi qui tu perché sì, non è giusto ah, ragazzi, con la Little Tom che siamo una piccola schifosa e in effetti lo è dove di soltanto tenere prenduto e stare ora no, Gabriele no, qui sì eh, ragazzi, capirei anche qui per farmi di chiacchier cosa? la è un cazzo oh mirio eh, me ne sono accorto Gabriele, Gabriele, sono là uccidimi, Gabriele veloce, veloce veloce eh, mi ha ucciso lui eh, ti abbiamo viss... hanno visto tutte le telecamere che stavano volando dai, ragazzi sono con la Golden Gun dai, che vinco questa partita per tutti voi ma io c'ho... sii aspettate bevo la Coca Cola perché sono il Big Food con i piedi lunghi come quelli mia non ha tunze, tunze, tunze tu... oh, allora, ragazzi facciamo kitchen house kitchen house kitchen house kitchen house ragazzi facciamo kitchen house aaaaaaah aah allora, ragazzi questo sarà un video lungo e... beh alla prossima partita ok, ragazzi allora Gabriele è entrato nel team Gabriele, tu in che team entri? eh, nel tuo ok, nel rosso nel rosso, Gabriele aah oh, ragazzi è cambiata tantissimo la cucina kitchen house non me lo ricordavo per niente così oh eh, questo è karma questo è una karma ok, va bene ehm sono curioso di vedere com'è la nuova cucina cioè l'ho già vista ora però voglio scoprire come di affondo una foto di un gatto in una ragnatela eh, bella schifo povero gatto ancora sembra mio padre ma vabbè wow muori tu oh, kingrio chi... kingrio? non è triste kingrio e vai oh, l'ho ucciso davvero con il kingrio ma poverino mi dispiace che ti succede? stai bene ma perché moveraccia quella non c'è capriccio il lanciafiamme che figata oh, dual shotgun dual top gun vabbè lì oh ok, va bene oh, vado a esplodere un povero cioè nel senso un povero poverino oh 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 mannag... allora eh... vero? ma perché? guai... ma perché dai ma perché? ah! uh! 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 che potenza raga che potenza la potenza del gorilla la sentite oh questo è il gorilla qua pu 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 avete visto la potenza del gorilla? questa è la potenza del gorilla e il pinguino la storia del gorilla e il pinguino wow eh... ma perché? ma... ma... ma perché? wow danny milk danny latte qua non si chiama danny latte che è il nome come ti fai a chiamare danny latte? uh! cioè raga qua facciamo il video di arsenal cioè non so quanti ne ho fatti tipo uno credo uno stravecchio e uno stranuoso che praticamente è lui però se ti fai uccidere grazie ok grazie dark boy dark boy non lo so perché non mi piace raga 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 volo volo cos'è questo quello di batman madonna mia cos'ho fatto cos'ho fatto cos'ho fatto stermino stermino dudurator zucco zucco mi ha ucciso maledetto maledetto zucchine eh beh va bene oh oh perché non c'è un occhino oh zucchino zucchino non c'è cos'è ma perché perché cosa si sta mettendo gli occhiali perché perché un npc ci mette gli occhiali wow oh go oh ragazzi c'è la chi oh devi dire più gabby cos'è cos'è dunque raga se c'è se voi seguite il mio canale ora dite ma quale è gabby in realtà non è gabby è il soprannome che ho dato al mio amico gabriele gabby perché non lo so mi ricordavo gabby gabby è un bel soprannome quindi chi ti ho detto no dai è un bel soprannome gun cioè si chiama proprio gun ma perché cioè lo spero lo spero e lo speriamo perché se poi faili davanti a tutti fai una figuraccia povero gabriele oh pig food pig food grandi piedi grandi piedi sterminato dallo sterminato ragazzi ho già 31 kill viva il gran Michele gran Michele allora impari ad uccidere che si impari ad uccidere i miei compagni di squadra con il coltello se ne ho posso perché io sono il dudulatore avete capito bene no? mi sono andato il soprannome subito il dudulatore non fate domande raga ok no maledetto giuro che prima o poi ti stermino pure a te mi sento forte mi sento forte mi sento fo oh gabriele ha avuto un badge complimenti gabrie complimenti allora in questa nuova partita come ben vedete e si raga ho un clown siccome le registrazioni di banditam certe volte sono peggiori appunto poi non ha registrato tutto ma va bene allora qual tizio mi sta già quasi per battere per questo team rosso non fatevi battere oh tutto il team blu ha a fare le kill oh no non c'è il telefono e mi cade il telefono oh ma basta ma perché quanti non c'è il telefono oh flau non provare non provare di chiudere ma muori ma muori io mi do come uno scena sto ridendo oh però non è che un secondo vabbè è che tanto in sto gioco nessuno perde nessuno vince cioè nessuno perde perché vincono tutti dopo tutti quale eh sì eh sì eh sì eh sì mi sembrerà giusto eh sì eh eh sì è giusto è glace oh allora big points battle points oh mi sto quasi guadagnando le co ah ok perfetto gabry team blu ricevuto sir team blu che non voglio skillerare come faccio con i miei amici che loro skillerano come dei pazzi sempre perché non mi vincono ragazzi mettete like dai un like un euro per il computer di gabriele dai raga dai raga volete pure voi che gabriele ha un nuovo computer cioè poverazzo guardate fa di tutto per vincere e non ha neanche una kill certe volte c'è un'intera partita senza una kill cioè ragazzi c'è raga poverino cioè 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 ragazzi lui lui ha detto io gioco su arsenal solo per voi amici miei perché vi voglio bene cioè ragazzi guardate com'è affettuoso il nostro amico gabriele per voi e giocherà per sempre su arsenal quando farò un video c'è vedete la potenza del flower mori tu oh oh mio dio una streak di 6 che bello ora muori dominando tutti sono il re ma come sono ad una streak di 10 ma come com'è possibile ma non è possibile oh perché ora da nabbo sono venuto al super pro super pro super pro e morto super pro ricordati gabriele devi sempre tenere la grafica 1 perché sta a 0 la grafica è automatica non è automatico non è stato come è do do later do do later do do later potevo ucciderlo con il colpello ma boh oh non mi parlate ascolta l'odorante ha 32 kill che sembra è l'ultima oh guarda ha 32 kill oh quel managgio la minigun è tornata la minigun raga la minigun è tornata la minigun la minigun non la uso da tempo la minigun però sta tanto a vincere allora ragazzi vediamo chi vincerà qua tutto con il cappellino Ma che Muori Non era questa l'animazione Perfetto Villa, facciamo la villa Dai che mi cambio pure skin per la villa Ma ragazzi forza Al prossimo round Ok ragazzi Ok allora Gabriele in che team Va nel rosso Perfetto è entrato nel rosso Allora Incrociamo le dita che Gabriele una kill farà Perché lui ragazzi Ricordatevi gioca per noi Per voi ragazzi non per me O per altri Perché lui vi vuole bene Vi vuole vedere sorridere Quindi lasciate l'animo Lasciatelo per lui Cioè insomma ragazzi Perché Gabriele ha pure un suo canale youtube E ha due iscritti Che foveraggio di Gabriele lagge non lagge Lagge sta partita non l'ha finita di sicuro Di sicuro No ha troppe chili indietro Dove sei Gabriele? Oh ti ho visto Ti vedo il tuo nome Dove sono i bulli? Eh ah chiamami Raga i bulli Chiameremo bullani Oh Annaggiatta Tarzan 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 raga Origami gun Origami gun Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Farai cosa? Oh che bullani 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 Oh io perché sono ancora con sta origami gun Voglio morire Ok Conosciuta Oh Eh questa qua Perché c'è giro tu? Perché c'è giro tu in arsenal? E poi viene pure chiamata Spilotraga Però in la testa Oh giro tu giro tu Giro tu giro tu Why you why Oh no ragazzi Non ne puoi piangere Deve essere potente Potenza Potenza Guardate la sclera ragazzi Guardate la sclera Oh Oh Endicare E neo Endicare Oh Con la Leggite Oh Ah che porno Un bullame con la faccia da scendere Oh Bullame Il suo bullame È un bullame È un uccidetto Poveretto 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 Oh 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 Madonna Gabriel 81 per te Dove stai? Gabri come sei bello Tu non hai fatto davvero E' un uccidetto Ma Beato Ma sei beato Tra le pecore Oh 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 Questo è un uccidetto È un uccidetto Tipo di pezzi Di bullame Oh Bullame 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 Un uccidio Un uccidio Oh Oh Un uccidio Trappos Trappos Ok No Oh 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 come sono incappena nato come sono incappena nato come si può dire sclera c'è ma tuta raffi oh il pino avanti è l'armario brillante oh ragazzi oh se arriva a 5 kg dobbiamo festeggiare ho le magnum su buono non è vero quella magnum non è vero si è senza dingle bed dingle bed dingle hallway Gabriele è il più forte one shot oh questo qua è forte questo bullano è brutto e puzzolente fermare no no va bene non lo so avevo un M60 Gabriele penso dell'M80 ragazzi alla prossima partita ok ragazzi ora stiamo parlando la bici bellissima la bici bellissima la bici la bici quella fa schifo la glock la fa l'arma più puzzolenta la bici 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 oh eh la bici la bici fai ohhhh ahahah quando caprile sclera però di cerco sclera bullami oh Bullami, ci sono i Bullami e ne hanno chiesto i Bullami nemesis neme, bullame la mia nemesis Oh! Fa un kill! Sono avuto qua! Io ho due, ho scattato! Oh! Ho già notato! Ho 12 di vita! Sì, ragazzi, sentitela Gabriele! Dobbiamo supportarlo! Cioè, dovete dispiacere! Fa così tanto lavoro! Sì, ragazzi! Eh, niente a farlo l'acqua! Non è giusto! Però potete piangere, ragazzi! Cioè, era bella! Ma bella, bella questa macchina! Mi sono innamorato! Mi sono innamorato! Ma va bene, ragazzi! Per questo video stralungo, che di sicuro, se avete messo più o meno, non lo so, 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 non lo so! Ciao! Eeeh, io... Sto qui! Sto qui! Sto qui! Eeeh, ragazzi! Vi saluto! E ci vediamo alla prossima! Ciao!